Ben trovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale. Un cordiale saluto a tutti voi dalla redazione di Telemolise. Apriamo con le dimissioni di Federica Vinci. Il sindaco Castrataro ha scelto il nuovo vice sindaco e Angelo Iannone, assessore al bilancio e figura condivisa dalla maggioranza. Il primo cittadino replica le parole della dimissionaria Vinci. Non sono ostaggio dei partiti, rammaricato dalle sue accuse. Sentiamo in apertura Davide Gambardella. È l'assessore Angelo Iannone, il nuovo vice sindaco di Sernia. Comunicazione arrivata a meno di 24 ore dalle dimissioni di Federica Vinci durante la conferenza stampa indetta dal sindaco Piero Castrataro. Decisione in extremis. Dopo le polemiche scatenate dagli impegni con le organizzazioni internazionali all'estero della Vinci e che mette tutte le anime della maggioranza d'accordo. Iannone, assessore al bilancio del comune di Sernia, è una scelta che va al di là delle logiche di partito. Uomo che ha dalle sue consensi i risultati ottenuti grazie alla riduzione del deficit di Palazzo San Francesco. Ma il video con cui la Vinci ha annunciato le sue dimissioni ed in cui ha accusato il primo cittadino di essere ostaggio di pressioni politiche non poteva passare sotto silenzio. Castrataro si dice rammaricato dalle parole della ex vice sindaca ma assicura di non sentirsi ricattato dai partiti della sua coalizione. Mi dispiace molto per le modalità di cui credo che ecco su questo credo che sia stata l'emotività che ha giocato un brutto scherzo diciamo alle modalità con cui si è dimessa. Ho detto più volte sono ostaggio del lavoro, sono contento di essere ostaggio del lavoro, è normale che ci siano delle interlocuzioni tra i componenti della maggioranza soprattutto tra quelle più rappresentative ma credo che fa parte della politica. Giannone dunque è un nome largamente condiviso dalla maggioranza, la sua nomina è un riconoscimento ad un lavoro certosino nelle retrovie ma adesso bisogna lavorare a rimpasto di giunta. Per ora le deleghe rimangono a me, è chiaro che quando verrà nominato il nuovo assessore che avverrà a breve ci sarà anche probabilmente una piccola ridistribuzione per riequilibrare qualche carico di lavoro però sono cose che nel giro di pochi giorni si sapranno. Non manca il colpo di teatro quando nella conferenza stampa nella sala Raucci irrompe la ex assessora Francesca Scarabbeo la quale rivendica di essere stata sbattuta fuori dalla giunta nonostante essere stata la più votata della lista del sindaco e che oggi accusa Castrataro di non avere i numeri per governare. Accuse che il sindaco dribbla tornando sul caso Vinci andava gestito meglio, ammette i cronisti, bollandolo come un incidente di percorso che lascia la mano in bocca. Col senno di poi tante cose possono venire meglio e si possono gestire meglio. Qualche incidente di percorso capita, la pressione mediatica verso Federica Vinci è stata forte, bisognerebbe fermarsi un attimo, capire che bisogna essere disposti a perdere o tra virgolette a fare un passo indietro nel modo migliore possibile sapendo che le nostre identità o le nostre devono fare quadrato con il bene e il modo di comunicare giusto alcune cose. Una nomina inaspettata per Angelo Iannone è quella vice sindaco di Sernia, Castrataro ha avuto il placer di tutta la maggioranza e adesso non tocca altro che governare. Sono contento di aver avuto l'appoggio e il consenso di tutte le forze politiche. Per quanto riguarda il mio impegno sarà il più profondo e il più intenso possibile per rappresentare sempre al meglio la città di Sernia, i cittadini di Sernia nel miglior modo possibile. Non sono mancate le reazioni del centrodestra alla notizia delle dimissioni dell'ormai vice sindaca Federica Vinci. Una scelta doverosa quella di lasciare gli incarichi ma le dichiarazioni della componente di Volt scatenano la bufera. Sentiamo ancora Davide Gammardella. Alzano le braccia al cielo dai banchi dell'opposizione appena presa la notizia delle dimissioni di Federica Vinci, un segno di vittoria. E adesso il coro unanime chiede a Castrataro di fare un passo indietro. La decisione di lasciare tutti gli incarichi comunicata via social ha innescato le reazioni di chi ha denunciato le assenze della Vinci impegnata nelle missioni all'estero. L'opposizione bacchetta l'ingratitudine dimostrata dalla componente del gruppo Volt nei confronti dei suoi ex colleghi e chiede che si faccia chiarezza sul sistema marcio di cui ha parlato nel video. Il leghista Raimondo Fabrizio, il primo che ha sollevato la vicenda in consiglio comunale, parla di dimissioni doverose. Alla luce delle sue dichiarazioni iniziali, afferma Fabrizio, è emerso il fatto che stesse all'estero percependo più di 7.000 euro l'ordi al mese. Con quei soldi avrebbe dovuto risolvere i problemi della sua città e non certo quelli del mondo. Sarcastico invece il vicepresidente del consiglio comunale Giovan Carmine Mancini, che esordisce con non c'eravamo tanto amati. I giochini con i Lego sono finiti in fretta, peccato che tutto vada a danno della martoriata ai Serni e dei miei concittadini. Adesso la Vinci combatterà i governi legittimamente eletti e si impegnerà nel bloccare i missili USA a lunga gittata. Segue la scia la forzista Linda Dall'Olio, che fa eco al suo collega con un c'era una volt, per ricordare il movimento politico da cui proviene la Vinci. La vicenda è grave, aggiunge Dall'Olio, rivela una totale mancanza di rispetto per le istituzioni e il ruolo, oltre che nei confronti dei suoi elettori, che l'hanno sostenuta durante la campagna elettorale. Una doppia scorrettezza, conclude, e mi chiedo come faccia il sindaco ad andare ancora avanti. Scettico invece Nicolà Moscato, membro del coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia, la decisione della Vinci non era nell'area e stride con le dichiarazioni del sindaco dopo l'ultimo consiglio comunale. Le giustificazioni adotte dall'ex vice sindaca sono quantomeno discutibili, perché due giorni fa eloggiava la squadra di giunta e oggi accusa un assessore di aver abbandonato Volt per ambirare una poltrona. È stata disposta l'autopsia sul corpo della donna di 70 anni morta nell'incidente stradale di due giorni fa sulla strada tra Cerce Piccola e San Giuliano del Sagno. Il sostituto procuratore Vittorio Gallucci affiderà domattina l'incarico al medico legale Massimiliano Guerriero, che poi effettuerà l'esame in giornata all'ospedale Cardarelli. Subito dopo sarà concesso il nulla osta per i funerali. A Cerce Piccola, paese nel quale la donna di origini venezuelane viveva da tempo, sarà proclamato il lutto cittadino. Cambiamo argomento. Maria Luisa Forte è tra i nuovi vice presidente nazionali del Lanci, l'associazione che riunisce i comuni italiani. A nominare al suo fianco la sindaca di Campobasso è stato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, eletto alla presidenza. Rappresenterò tutti i sindaci al di là delle appartenenze politiche. È un onore e una grande opportunità, ha detto la Forte, che condivido con la città e con tutto il Molise. Sentiamo Pasquale Di Bello. Stai andando forte. È stato questo il ritornello intonato da Gianni Morandi che ha accompagnato la campagna elettorale dell'attuale sindaca di Campobasso. E Maria Luisa Forte, dopo aver conquistato la guida dell'amministrazione del capoluogo, sembra voler proseguire in quella direzione. È arrivata per lei nelle scorse ore la nomina a vice presidente nazionale del Lanci, l'associazione che riunisce gli oltre 7.000 comuni italiani. A volerla al suo fianco il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, eletto per acclamazione presidente della prestigiosa organizzazione. A Maria Luisa Forte, Manfredi ha assegnato due importanti e impegnative deleghe, quella al mezzogiorno e la seconda alle politiche per la coesione territoriale. Due campi d'azione sui quali si gioca buona parte del futuro del meridione e soprattutto della sopravvivenza per le aree interne e marginali. È un grande orgoglio per me, ha detto a caldo la sindaca, è un onore e una grande opportunità proseguito che condivido con la città e con tutto il Molise. La sindaca ha anche sottolineato l'importanza di una ribalta nazionale dove portare a detto i problemi e le proposte dei nostri comuni da avanzare direttamente al governo e al Parlamento. Un incarico, quello ricevuto, che la prima cittadina di Campobasso intende portare avanti senza casacche di partito. Rappresenterò tutti i sindaci, ha detto, al di là delle tessere e delle appartenenze politiche. Un passaggio nelle prime dichiarazioni rilasciate, Maria Luisa Forte lo dedica alle deleghe ricevute. La delega al mezzogiorno e alle politiche per la coesione territoriale è di fondamentale importanza, ha detto, per il bene dei nostri comuni e di tutti quelli delle aree interne. A congratularsi con la sindaca di Campobasso sono arrivati messaggi da parte delle forze politiche della coalizione. Per Alessandra Salvatore, consigliera regionale del PD, quello di Maria Luisa Forte è un grande risultato per il Molise e per Campobasso. Il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Antonio Federico, parla di opportunità per il Molise all'interno del panorama nazionale, mentre per Luca Praetano, capogruppo al comune del Movimento 5 Stelle, quello per la Forte è un riconoscimento prestigioso e di grande responsabilità. Il senatore di Fratelli d'Italia, Costanzo Della Porta, ha interrogato a Palazzo Madama il ministro degli interni Piantedosi sulla questione furti e reati predatori che hanno colpito nell'ultimo anno il Molise e in particolare Campobasso e il Basso Molise. Ha risposto il sottosegretario Emanuele Prisco, il quale ha detto che entro gennaio ci sarà un incremento di personale di polizia alla questura del capoluogo. Sentiamo Tonino Danese. Furti di auto e nelle case è un fenomeno che ha allarmato non poco i cittadini molisani, in particolare nell'ultimo anno a Campobasso e nel Basso Molise. Il senatore di Fratelli d'Italia e sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, Costanzo Della Porta, ha presentato un'interrogazione al ministro Piantedosi sul tema per chiedere di inviare più personale militare e di polizia sul territorio. La risposta nell'aula di Palazzo Madama è arrivata dal sottosegretario Emanuele Prisco, che ha evidenziato che in tutta Italia le forze dell'ordine sono impegnate nel contrasto dei reati predatori. In Molise, nella provincia di Campobasso, nello specifico, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha delineato linee di intervento con dispositivi di controllo intensificati. La Polizia di Stato, oltre all'ordinaria attività, ha svolto nel corso dell'anno complessivamente 84 servizi straordinari di controllo del territorio, anche con il supporto aggiuntivo degli equipaggi del reparto prevenzione chimine. I suddetti servizi sono stati estesi anche ai comuni limitrofi a Campobasso e a Termoli, in particolare a quello di Campomarino. Prisco ha aggiunto che sono stati programmati comitati provinciali decentrati con partecipazione dei sindaci interessati. A ottobre il ministro Piantedosi ha siglato in prefettura a Campobasso un protocollo d'intesa per la videosorveglianza su tutto il territorio provinciale. L'intensificazione dei controlli e della prevenzione a continuato Prisco ha portato a risultati importanti. Al 30 settembre, da dati della Polizia, la diminuzione dei furti in provincia di Campobasso è dell'11% e nel capologo intorno al 27%. Tra dicembre e gennaio, a conclusione dei corsi in questura a Campobasso, ci sarà un incremento degli organici. Si articola un incremento di 10 unità, di cui 5 del ruolo degli agenti assistenti e saranno destinate alla questura un ispettore all'articolazione periferica dello SCO, un ispettore alla Polizia Stradale e tre unità presso la scuola allievi agenti di Campobasso. Subiamo la vicinanza della criminalità dell'Alto Foggiano, ha spiegato Della Porta, che ha reso un plauso al lavoro quotidiano, svolto da uomini e donne in divisa e all'attenzione del governo alle periferie, dicendo di essere soddisfatto delle risposte ricevute dal sottosegretario per due ragioni. La prima, il protocollo d'intesa che il ministro Piantedosi ha firmato a Campobasso, con la prefettura e con la regione, per dotare di tutte le arterie viare di una videosorveglianza attiva con lettura delle targhe. Dall'altro lato, l'aumento del contingente della Polizia di Stato, quindi è un aumento anche numerico che spero e penso che nei prossimi mesi, con i nuovi concorsi, possa portare oltre alla Polizia di Stato anche l'aumento nelle caserme dei Carabinieri. Questo per aiutare il territorio a restare un territorio sicuro. In ultimo ha reiterato una richiesta al ministro Piantedosi. Cioè quella che Campobasso torni ad essere una questura di fascia A, con una dirigenza generale, perché oggi sconta il fatto che è l'unico capoluogo di regione che ancora non è ancora una questura di fascia A. E sempre negli organi direttivi dell'associazione che riunisce i comuni italiani è stato chiamato a far parte il sindaco di vinchiaturo Luigi Valente, confermato all'interno del Consiglio Nazionale dell'Organizzazione. A Valente sono giunte le congratulazioni del consigliere regionale Fabio Cofelice, coordinatore regionale di Noi Moderati, la formazione politica alla quale Valente fa riferimento. La rielezione di Valente ha detto Cofelice la dimostrazione di come la nostra compagine politica esprima ancora amministratori veri e impegnati a fianco della gente. E torniamo alla crisi idrica. Per far fronte alla crisi idrica che sta colpendo molti comuni del Molise a causa della riduzione della portata delle sorgenti, i sindaci saranno invitati a chiudere l'erogazione dell'acqua nelle ore notturne. Uno dei problemi è costituito anche dalla dispersione delle tubature, che può essere risolto solo attraverso interventi strutturali. Sentiamo Giovanni Di Tota. Venti rate da 1.400.000 euro al mese per un totale di 28 milioni di euro è la proposta messa sul tavolo dal presidente della Grim, Massimo Saluppo, per chiudere la partita con Molise Acque e firmare l'accordo sulle fatture che devono essere pagate all'ente di via De Pretis. Il nuovo capitolo, scritto nell'ultima riunione però, non ha avuto un esito definitivo visto che Molise Acque non ha ritenuto congrua la proposta e dunque l'accordo tra i due enti e ancora tutto da scrivere. Lo scoglio, che non è stato ancora superato, sta nella richiesta di pagare anche le fatture future, alla quale invece Grim si oppone. Ma al di là del cortocircuito tra i due organismi, la vera novità è rappresentata dai dati che sono stati sottoposti al tavolo, a cui hanno partecipato anche i rappresentanti di EGAM e della regione. Molise Acque ha comunicato che la portata delle sorgenti in Molise è passata dai 2.500-3.000 litri al secondo agli attuali 1.580 litri di acqua al secondo. Il 69% dell'acqua che sgorga è destinata al Molise, mentre il 31% viene dirottato verso la Campania. La quasi totalità dell'acqua che arriva in Campania, il 95%, serve al fabbisogno della città di Benevento. La riduzione della portata delle sorgenti, abbinata al periodo di forte siccità degli ultimi mesi, ha indotto tutti i soggetti presenti al tavolo di suggerire ai sindaci dell'intera regione la chiusura dell'erogazione dell'acqua nelle ore notturne. Già nei prossimi giorni tutti i sindaci saranno invitati in prefettura a un incontro nel quale sarà illustrata la situazione. È evidente che la dispersione di molte reti idriche su tutte quelle di Campobasso, dove l'acqua che fuoriesce dalle tubature è circa il 65% di quella erogata, con punte dell'80% a Venafro, rappresenta uno spreco enorme che solo la chiusura notturna delle condotte può al momento evitare. Sullo sfondo le proposte di rivedere gli accordi con la Campania e di investire, in particolare la regione, sul rifacimento della rete idrica nei comuni. E per la chiusura dei serbatoi mancherà l'acqua a Campobasso, Portocannone, Campomarino, Baranello, Mirabello, Ripalimosani e Vinchiaturo. Domani sera dalle 23 alle 5, sabato da mezzanotte alle 6 e domenica e lunedì dalle 23 alle 5, lo ha comunicato la Grim. Istituita la rete di intervento per il contrasto alla violenza di genere, iniziativa voluta dalla procuratrice di Larino Elvira Antonelli. Firmato il protocollo d'intesa tra magistrati, forze dell'ordine, istituzioni e associazioni. Sentiamo Andrea Nasillo. È realtà una rete di intervento per il contrasto alla violenza di genere, un'idea concretizzata e fortemente voluta dalla procuratrice della Repubblica di Larino Elvira Antonelli. Proprio in tribunale la firma del protocollo d'intesa che coinvolge magistrati, forze dell'ordine, associazioni, amministratori locali e sindaci, istituzioni e mondo sanitario. Come ha detto ieri il Presidente Mattarella, la collaborazione tra istituzioni è un dovere repubblicano. È un'espressione bellissima che informa anche questa iniziativa. È una rete istituzionale che passa attraverso tre fasi. L'osservazione per l'emersione del problema, l'intervento per la risoluzione dei problemi e il momento repressivo dei reati, quando ci sia la percezione che quel disagio che è stato osservato in prima linea costituisca frutto e vittimismo di reato di violenza di genere. La rete punta i riflettori sulla gestione del fenomeno di violenza, dalla denuncia dei fatti alla tutela legale, alla protezione della vittima, all'accesso alla giustizia riparativa del colpevole. Si tratta di un'applicazione vivente dell'articolo 2 della Costituzione, la solidarietà sociale realizzata da una rete di istituzioni che, anziché essere in competizione fra di loro, si cooperano, collaborano per cercare di porre un argine a questo tristissimo fenomeno che purtroppo noi dobbiamo registrare anche nel nostro piccolo circondario, dobbiamo registrare in diciamo in costante aumento. La Procura della Repubblica costituisce il terminale del fenomeno, si colloca nel momento di emersione della patologia del fatto, ma da essa derivano attività che coinvolgono le diverse professionalità. Psicologi, psichiatri, assistenti sociali, avvocati, sono stati individuati i referenti specializzati di polizia giudiziaria nelle due compagnie dei carabinieri, Larino e Termoli, nel commissariato della cittadriatica e nella squadra mobile. Questo è un protocollo molto importante perché mette insieme tutte le componenti, non solo delle forze dell'ordine della magistratura, ma anche degli altri enti necessari per combattere questo fenomeno. Poi come Questura questo protocollo ha un senso ancora più importante perché oltre la parte di polizia giudiziaria c'è la parte della polizia di prevenzione con l'ammolimento del questore che quindi permette anche con questo protocollo di avere dei riferimenti importanti e certi per procedere con queste misure di prevenzione. La Casa di Diritti che si batte da quando è nata per quelle che sono le questioni delle violenze di genere e soprattutto con un'azione capillare all'interno delle scuole, con l'azione di sensibilizzazione, chiaramente presente proprio per quello che ha già dato e per quello che continuerà a dare. E noi invitiamo sempre a chiamare sia il numero della procura, il nostro numero verde, il 1522, alle donne che hanno queste difficoltà, ma non soltanto a loro ma anche a chi ha persone che capisce, intuisce essere vittime di violenza economica, di violenza fisica, di violenza psicologica. Noi diciamo chiamateci. L'avvocata Isernina Deborah Pastore è il nuovo uditore giudiziario del programma televisivo Forum. Originaria di Isernia, classe 97, si è laureata in giurisprudenza con l'Ode presso la Lumsa e ha iniziato giovanissima la sua carriera legale. Abilitata all'esercizio della professione forense a 26 anni, ha frequentato anche un master di secondo livello in diritto del lavoro. Da oggi farà parte del rinnovato cast di Forum. Momentiv, leader nel settore chimico e tra le aziende ambassador della quarta edizione del premio tesi di laurea Ingenio al Femminile, promosso dal Consiglio Nazionale Ingegneri. Il premio che si è svolto a Roma è volto a sostenere l'obiettivo 5 dell'agenda ONU 2030 sulla parità di genere e favorire l'ingresso delle neolaureate in ingegneria nel mondo del lavoro. L'adesione di Momentiv a questa iniziativa riflette il nostro impegno verso la valorizzazione dei talenti femminili e delle competenze STEM, ha dichiarato Maria Antonietta Nuozi, People Operation Leader per Italia, Francia e Turchia. Il tema della quarta edizione è stato il Paradigma 5.0 e il ruolo strategico dell'ingegneria su innovazione e sostenibilità. Alla materna e alla primaria di Pozzilli è tornata l'educazione ambientale del gruppo era. I piccoli allievi sono stati coinvolti nelle attività della grande macchina del mondo. Il programma era ambiente su energia rinnovabile e circolarità delle risorse, giunto all'ottava edizione. Laboratori e giochi per spiegare ai bambini come la tutela ambientale sia la vera sfida del domani. C'era per noi Valeria Migliore. Gettare i rifiuti negli appositi bidoni, spegnere le luci quando non sono necessarie e chiudere il rubinetto mentre ci si insapona le mani. Sono solo alcuni dei semplici accorgimenti che gli allievi della primaria Iovine e della materna Maria Annunziata di Pozzilli hanno imparato per tutelare l'ambiente e ridurre gli sprechi. Attraverso esperimenti, giochi e laboratori il gruppo era ha voluto coinvolgere i più piccoli nella sfida che l'Europa deve affrontare per raggiungere gli obiettivi dell'agenda 2030. La grande macchina del mondo, il programma di Erambiente su energia rinnovabile e circolarità delle risorse è giunto all'ottava edizione. Erambiente tutti gli anni porta nelle scuole di Pozzilli proprio questa iniziativa per sensibilizzare i bambini più piccoli e speriamo anche le famiglie perché poi si fanno portavoce rispetto alle tematiche del rispetto dell'ambiente, all'uso consapevole delle risorse, dell'energia, dell'acqua. Per noi è importantissimo, noi ci sentiamo impegnati tutti i giorni nel proteggere l'ambiente, nel promuovere l'economia circolare, ma certo l'impegno nostro sappiamo che non basta, serve diffondere una cultura del rispetto dell'ambiente e della promozione proprio anche nel concreto, nel quotidiano di tutti i gesti che aiutano l'economia circolare. In cosa consisteva questo gioco? Che cosa avete fatto? Abbiamo messo un tappeto per terra, poi ci stavano delle macchinine di robot, ci stavano dei pulsanti, li abbiamo premuti, ci stavano delle frecce e poi hanno camminato e abbiamo preso i rifiuti. Ho imparato a mettere la spazzatura nel guidone. Cosa possiamo fare noi piccolini per rispettare l'ambiente? Dobbiamo fare bravi. Questi bambini erano davvero piccolissimi, avevano appena 3-4 anni, come hanno risposto? Ma diciamo che pur essendo piccolissimi comunque alcune cose già le sanno, quindi ci dicono che chiudono i rubinetti e che spengono le luci, i rifiuti diciamo li distinguono, ancora fanno un po' fatica a capire quali sono i bidoni giusti, però sanno che vanno buttati in bidoni diversi. Cecilia, cosa avete imparato oggi? Abbiamo imparato che non dobbiamo sprecare l'acqua perché è un bene prezioso per tutta la terra e per tutti gli esseri umani. Quali sono le regole da seguire? Che non dobbiamo sprecare l'acqua, non dobbiamo sprecare la luce e non dobbiamo sprecare nemmeno il cibo. La nostra natura è preziosa, tu cosa vuoi fare per aiutarla? Non inquinare e non sprecare tanto elettricità. In questo caso hanno un gioco investigativo in cui devono trovare tutte le azioni sbagliate, i crimini ambientali e scoprire chi è stato il colpevole che ha fatto sparire il dottor Green che invece è un appassionato di sostenibilità. Oggi è la giornata nazionale degli alberi e come ogni anno il comune di Campobasso ha celebrato la ricorrenza con una serie di iniziative rivolte in particolar modo alla sensibilizzazione degli alunni delle scuole cittadine. Una pianta in mattinata è stata messa a dimora in piazza Bernardino Musenga alla presenza degli alunni della scuola primaria Nicola Scarano dell'Istituto Colozza. I bambini sono stati impegnati anche in un'attività di riconoscimento ed identificazione delle piante. La scuola primaria Nina Guerrizia dell'Istituto Dovidio ha invece partecipato con i propri alunni alla messa a dimora di due nuovi alberi al giardino Vittime delle Foibe. Infine nell'area davanti all'Istituto Comprensivo Iovine, alla presenza degli alunni, sono stati messi a dimora nuovi alberi da frutta. Agnone celebra il piccolo Natale, fede e tradizione per rinnovare il rito della Messa dell'Alba in onore della Madonna delle Grazie e ricordare i tempi in cui la transumanza e i tanti lavori artigianali legati al periodo natalizio portavano ad anticipare il Natale per chi partiva. Nel centro alto molisano si apre così il periodo delle festività natalizie. Ci dice tutto Stefano Ricci. Tradizioni che oscillano, tra epoche che tendono a lasciarle nel dimenticatoio dei ricordi di pochi, ad altre, fortunatamente, dove tornano a rivivere nella speranza che la loro luce di significati non si spenga più. Vivere all'Alba, la Messa per la Madonna delle Grazie, è una suggestione unica che anche le telecamere di viaggio in Molise, in questo caso affidate a William Delli Quadri, non smettono di raccontare ormai da 15 anni. Il piccolo Natale, come lo sentono ad Agnone, è un momento che vive di valori, legati al periodo natalizio come la storia di poche altre tradizioni riesce a raccontare, con la nene della pastorale, la pastorella, come la chiama il popolo, composta per un momento preciso a scandire il tempo del Natale. Si celebra prima proprio per questo motivo qua, perché durante il periodo natalizio i nostri artigiani andavano a vendere le loro mercanzia in tutti i paesi qui intorno. E quindi durante il periodo natalizio non c'erano. Allora per sentirsi un pochino più vicini alle proprie famiglie durante il periodo di Natale, hanno anticipato in questo periodo qua con una specie di melodia per sentirsi vicino a questo periodo qua. Allora questa messa della Madonna delle Grazie alle 6 del mattino era per loro celebrare il Natale, perché la pastorale per noi agnonesi è davvero una melodia molto bella di Gamberale che ci apre il cuore alla nascita del Signore Gesù. Un coro che è tornato a unire tutte le generazioni, soprattutto le più giovani, sempre più, in sintonia con la riscoperta delle tradizioni. Una volta diciamo che la chiesetta di San Pietro bastava a fare questa cerimonia. Adesso si è talmente dilatato il numero di quelli che vogliono assistere che l'abbiamo spostata nella chiesa matrice di San Marco che è più ampia e più grande. Ho iniziato 9 anni fa grazie a un mio amico che prima suonava qui. mi ha proposto questa cosa. Io sono un amoflauto dalle scuole medie, quindi mi sono integrato in questo gruppo, mi sono trovato benissimo. È un sentimento che si rinnova in maniera davvero spontanea. Ogni anno è una devozione profondissima e davvero emozionante. Ogni anno ci si ritrova portando tutto quello che è successo nell'anno precedente. E poi i raffaioli, quel dolce tipico che sempre accompagna, come evidentemente, nelle migliori tradizioni. È praticamente un pan di spagna, diciamo così, molto più lavorato, molto più fine. Sia i bar sia le famiglie osservano questa tradizione di questo dolce che viene messo vicino a una tazza calda di cioccolato. Seconda edizione delle cantine Campopetresi in un borgo storico illuminato e popolato. Tanto buon cibo, ottimo vino e musica dal vivo ad aglietare la serata. Sentiamo Mara Mancini. Noi abbiamo il vino buono, le come buono, che vogliamo di più della vita. Cantine Campopetresi, edizione 2024, un evento che si riconferma essere un successo. Frittelle di pane, zuppa di legumi, cavatelli di San Martino, pancette e peperoni, taralli dolci al vino e in una serata tanto fredda non mancano le caldarroste. Dunque è tanto buon cibo tradizionale cucinato con amore e passione dalla gente del posto che si è organizzata in stand accoglienti e luminosi per le vie del borgo. Ed è proprio con l'idea di rivalutare il centro storico che nasce questo evento. Questo è un evento relativamente giovane. Nasce dalla volontà di alcuni ragazzi e quindi facenti parte della Proloco di voler dar vita a questo centro storico. Riteniamo che sia veramente un borgo che non abbia nulla da invidiare a nessun altro. Quindi erano troppi anni che era lasciato, diciamo, abbandonato a se stesso. E questo evento nasce proprio perché si vuole dar vita a un luogo che è fonte di tanti ricordi per la gente del posto ma anche di belle emozioni che possono nascere in una serata così. Beh sicuramente quando vengono fatte queste manifestazioni e quindi si fa vivere il borgo di un qualsiasi paese è sempre bellissimo. Anche perché i paesi nascono dai nostri borghi. Quindi farli rivivere e addobbarli, aggiustarli come è stata fatta per questa giornata è sempre una cosa bellissima. Questa seconda edizione è iniziata benissimo anche perché c'è una buona affluenza. Quindi noi siamo contentissimi anche se fa abbastanza freddo però comunque la gente sta arrivando. Da stamattina si sta preparando, si sta allestendo il tutto. Quindi tutto prontissimo per allietare questa bellissima serata. Siccome c'è stata anche l'anno scorso e c'è stata anche quest'anno speriamo che come diciamo noi a meglio a meglio all'anno che va. Ho mangiato tanto buon cibo, cucinato e preparato dalle persone del posto che io ringrazio, sono di Campo di Pietra e sono molto felice di questa organizzazione. Questa è la seconda edizione, c'è tanto impegno e tanta passione. Viva i Campo Petresi! Bene, era l'ultima notizia, termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, arrivederci.